Siete pronti per un altro video sulle diete? Oggi affrontiamo una dieta alquanto controversa e molto ma molto criticata. Vediamo se le critiche sono ragionate oppure no. Oggi parliamo della dieta Ducan. Ciao a tutti, bentornati su Health Me Food. Quanti di noi amano e vogliono perdere peso velocemente senza problemi? E quanti di noi cadono nelle grinfie di diete altamente dannose? La dieta Ducan è ideata dal medico francese Pierre Ducan ed è stata pubblicata nel libro e adesso dedicata nell'anno 2000. Ma il suo successo esplode circa 9 anni dopo, nel 2009, grazie anche a una pesante ed incessante campagna di marketing e di pubblicità. È una dieta molto diffusa, soprattutto fra i VIP, che la considerano ottima per perdere peso in maniera molto veloce. Ma è tutto oro quello che luccica? Vediamola insieme. Prima di tutto la dieta si basa su quattro differenti fasi. La prima fase è definita fase di attacco e prevede il consumo di sole e proteine pure, per cui uova, carne, pesce e latticini che siano a bassissimo contenuto lipidico. I carbodati sono assolutamente vetati e banditi come anche tutta la frutta e tutta la verdura. I cibi permessi in questa fase sono 72. Bene, io già dopo questa prima fase mi fermerei. Un regime alimentare che anche per un'ora bandisca le verdure è da ritenersi, secondo me, fuori legge. Comunque, continuiamo. Nella seconda fase, che viene definita di crociera e che sicuramente non è fatta su un transatlantico come il Titanic, alle proteine vengono aggiunte le verdure che hanno un basso tenore glucidico e per cui un basso contenuto di carboidrati. Questa fase ha una durata variabile. Va infatti mantenuta per tante settimane quanti sono i chili che vogliamo perdere. Per cui, se si vogliono perdere 6 chili, si farà per 6 settimane. Se si vogliono invece perdere 8 chili, per 8 settimane, eccetera. In questa fase, come nella prima fase, fibre e carboidrati sono ridotte all'osso. In questa fase ci sono 28 piatti che vengono permessi a base di verdure. Poi si entra in una terza fase, quella che viene definita da Pierre Ducan di consolidamento. Questa fase dura 10 giorni per ogni kg di peso perduto nelle prime due fasi, cioè quello di attacco e quello di crociera. Per cui, se nelle prime due fasi avessimo perso 10 kg totali, la fase di consolidamento durerebbe 10 giorni. Riappaiono in questa fase anche i carboidrati, ma comunque non si tratta di un regime completo, seppure è sicuramente molto, ma molto più equilibrato delle prime due fasi menzionate prime. Poi si entra nella fase finale, la quarta fase, che si chiama di stabilizzazione. Qui si entra in un regime alimentare prettamente normale, ma entrono in gioco 4 regole fondamentali da seguire, in questa ultima fase, che secondo l'inventore della dieta permetterebbero a tutti quanti di mantenere il peso che si è raggiunto. La prima regola è di mangiare almeno una volta a settimana, consigliato da Pierre Ducan, preferibilmente il giovedì, solo proteine pure, per cui carne, pesce, molluschi, uova, salami o latticini magri. La seconda regola è di praticare attività fisica calibrata alle proprie esigenze e condizioni fisiche, cercando poi di aumentarla in maniera caduale nel tempo. La terza regola è di assumere ogni giorno 3 cuccai di crusca di avena, perché aumenterebbe sia il senso di sazietà, grazie alle fibre in essa contenuta, e anche perché ridurrebbe la quantità di calorie assorbite. La quarta e ultima regola è quella di ritornare alla fase di consolidamento nel caso si notasse nuovamente che si ha un incremento del peso. Questa dieta funziona? Bene, sicuramente si perde peso velocemente, ma quello è praticamente l'unico vantaggio, perché per mesi non si mangia niente, è normale. È una dieta estremamente iperproteica ed estremamente ipocalorica. Se non si perdesse peso velocemente non sarebbe neanche una dieta. È sicura? No, assolutamente no. Se volete rischiare danni permanenti fatela pure e rovinatevi la salute. Tra l'altro Pierre Ducan si è autoradiato dall'ordine dei medici francesi, anche perché molto probabilmente aveva avuto sentore che se non lo avesse fatto lui, lo avrebbero fatto loro. Questo per due motivi particolari. Uno perché prescriveva farmaci per il controllo dell'appetito e questi farmaci sviluppavano gravi patologie a livello delle valvole cardiache e lo faceva senza nessun tipo di etica professionale. Inoltre aveva anche avuto la matta idea di proporre crediti formativi agli studenti delle scuole per quegli studenti che mantenessero il peso forma, senza preoccuparsi delle possibili relazioni psicologiche che ragazzi e ragazzi che magari in uno stato di sovrappeso e obesità o di aniversia potevano andare incontro. Ci sono poi anche evidenti rischi per la salute per chi pratica questo regime alimentare. In primis l'eliminazione completa dei carboidrati, cosa che non fa neanche chi pratica una dieta chetogenica, che toglie al cervello e al sistema nervoso centrale il carburante principale per vivere e funzionare, cioè il glucosio. In mancanza di questo l'organismo, oltre a prelevare i grassi dai depositi, preleva anche proteine per convertire il glucosio, perché serve appunto per il cervello, distruggendo così la massa muscolare dello soggetto. Inoltre si creano troppi corpi chetonici dalla trasformazione delle proteine come fonte di energia, e più cui questi composti che sono di scarto e sono a base azotata e si vengono a creare, sono tossici per l'organismo e soprattutto per due sistemi, quello epatico e anche per il sistema renale. Poi, essendoci troppe proteine di origine animale, si aumenta il colesterolo plasmatico, a causa delle enorme quantità di grassi saturi che si introducono nella dieta, soprattutto quelle provenienti da carne rosse, che possono, come tutti sanno, creare malattie al sistema cardiociccolatorio. Chi mantiene un regime alimentare estremamente orientato verso le proteine è maggiormente predisposto anche all'osteoporosi, perché si tende a creare una acidificazione dei tessuti, che poi deve essere bilanciata in qualche modo, e questo viene fatto col prelevamento del calcio dai tessuti ossei. Inoltre, lo scarso apporto di vegetali crea due problemi particolari. Primo, la mancanza di antiossidanti e vitamine e selle minerali in quantità adeguata, affinché il nostro organismo possa vivere in maniera salutare, e la quasi totale assenza di fibra alimentare, che in aggiunta al regime iperproteico, può provocare anche la gotta, cioè un accumulo di cristalli di acido urico in tutte le articolazioni. Inoltre, a causa della carenza di frutto e verdura, anche la quantità di acqua proveniente dagli alimenti è scarsa. Vi ricordo, se vi ricordate il video sullo sport che ho fatto qualche tempo fa, che l'acqua prelevata dagli alimenti viene ritenuta maggiormente all'interno dell'organismo, e per cui, oltre a bere tanto, mangiare frutta e verdura è un passo fondamentale per avere un'efficace idratazione totale. L'unico che ci guadagna qui dalla dieta Dukan è solo Pierre Dukan. La vostra salute sicuramente non ci guadagna assolutamente. Infatti, da uno studio effettuato nel Regno Unito che purtroppo non riesco più a trovare, l'avevo letto ma non lo trovo più, ma se lo trovo vi lascio nei commenti, anzi, se lo trovate voi per favore rilasciatemi nei commenti, ha dimostrato che chi ha sostenuto una dieta Dukan successivamente durante la fase finale, nel 68% dei casi, continuava di prendere peso. Mi dispiace non avere più questo link di questo articolo scientifico, per favore, se lo trovate, lasciatemi il link qui sotto, io lo continuerò a cercare, così lo possiamo leggere tutti. Come ho sempre detto, e non mi stancherò mai di ribadire, il concetto di confronto col vostro nutrizionista o dietologo di fiducia è l'unico modo efficiente per riuscire a perdere peso in maniera salutare, perché noi ci prendiamo cura di voi, anche in armonia con quelle che sono le vostre esigenze, e anche i vostri gusti alimentari. E soprattutto cerchiamo di farvi capire che con la pazienza otterrete i risultati migliori e anche quelli più duraturi, perché ne farete uno stile di vita salutare che si potrarrà nel tempo. Per cui, per favore, non fate dieti e fai da te, soprattutto se vengono da questi... ...millantatori. Comunque, se ci sono argomenti che vogliate che ho tratti sul canale, come sempre, fatemi sapere, lasciandomi un commento qui sotto, oppure, come sempre, potete anche inviarmi un'email al mio indirizzo, che è sempre quello, infochiocciola, healthmifood.com. Vi ricordo che tutti quanti potete come sempre seguire questi contenuti anche sotto solo forma di audio podcast, che io pubblico su iTunes, su Spreaker e su Spotify. Inoltre, potete anche seguirmi su tutti i social networks su cui sono presente. Vi ricordo che io sono presente su Facebook, su Instagram e anche su Twitter. E su questi social potete fare anche cose importantissime, come ad esempio condividere questi video o questi audio podcast per aiutarmi a passare il mio messaggio salutista a più gente possibile. Se poi non volete perdervi anche nessuno dei miei video successivi, vi ricordo di fare due cose molto veloci e utilissime. Iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete sempre visitare il mio sito internet che è www.healthmifood.com. Anche per oggi abbiamo finito e vi lascio andare. Ma mi rimasta solo la cosa più importante dei rivi che è Eat Well, Live Well and Smile. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao!